e ciao a tutti farmer spero tutto bene come vedete il divano sta diventando una costante fuori naturalmente piove come da un mese a questa parte e quindi oggi ne approfittiamo per mostrarvi ne approfitto per mostrarvi alcune clip di un corso sulla rigenerazione del suolo a cui ho partecipato l'idea vi era molto piaciuta quando avevo messo alcune clip su instagram e vi avevo molto incuriosito allora mi sono un po deciso a montare bene il video e appunto farvelo vedere sono andato da matteo agricola iside lago di iseo posto veramente fantastico dove matteo e la sua famiglia stanno facendo un ottimo lavoro di agricoltura agricoltura direi intelligente ora non mi dilungo vi mostro un pochino di clip guardate soprattutto come matteo si approccia all'agricoltura la natura perché secondo me è quella lì la chiave veramente interessante sto zitto bevo caffè di sicoria andiamo abbiamo incominciato incominciamo lunedì anche con vincente lena corso alla scuola in orcini bresciani e poi vorrei fare magari due tre maiali nostri però sui lotti di per dire qua un anno ogni cinque anni metto giù 60 centimetri di cippato i maiali stanno lì tre o quattro mesi ok ci pensano lo fanno loro il compost e li ho poi coltivo sul cippato spettacolare sai ogni cinque anni cosa vuol dire cioè tu fai crescere quando voi tornerete tra tra 10 15 anni cammineremo a questo livello è l'opposto rispetto a quello che è l'erosione ma il suolo si crea infatti che cresce cresce va bene adesso abbiamo dei cavalli che stanno preparando l'arrivo l'arrivo delle pecore vengono spostati una volta o due volte al giorno cerchiamo di fargli mangiare tutto quanto su questi terreni qua non è mia grande preoccupazione che calpestino anche durante anche mentre piove perché ho voglia che ho bisogno che questi suoli vengano compattati sono troppi sì sono troppo diversamente però sui terreni argillosi con tante radici nel terreno non ci sono problemi a far a lasciare gli animali anche durante l'inverno il problema qual è che spesso e volentieri chi fa chi vuole far pascolamento parte un po troppo presto il pascolo non è ancora pronto e si rovina il pascolo magari per i primi due o tre inverni si tengono ancora gli animali dentro migliora il pascolo aumenta la radicazione e il volume di radici che sollevano il suolo e aumenta la fibra che c'è che trattiene il suolo e da lì in poi va bene ora quest'anno sugli ortaggi c'è nata la bambina a giugno siamo riusciti a produrre comunque stiamo ancora facendo le cassette andremo avanti ancora sicuramente fino a gennaio non ci sono soveci perché non abbiamo avuto tempo non abbiamo messo vedrete le brassicace un mese e mezzo sono rimaste nei platò e non siamo riusciti a trapiantare tutto sommato però è forse anche andata meglio perché non abbiamo avuto meno produzione normalmente arrivavamo a dover mettere le cose nelle cassette e c'era troppa roba no troppo peso e non riuscivamo a mettere tutto quanto quest'anno con tutti i problemi che ci sono stati cioè equilibrato un pochettino il suolo viene normalmente trattato in questo modo sovescio quando quando si riesce si alletta mettiamo noi utilizziamo carta riciclata rotoli di carta che bloccano la prima ondata di erbe infestanti e una uno strato di fieno che raccogliamo avete visto quel macchinario verde lassù trincia raccoglie andiamo a raccogliere in giro adesso dovremo sostituire perché quando arriveranno le pecore non ci sarà il pascolo sarà per loro per cui sostituiremo con cippato valorizzazione delle piante degli alberi in più anche piantumazione di alberi apposta per quello che oltretutto è centomila volte meglio il cippato su un terreno che si è già ha già recuperato le energie di base non facciamo più lavorazioni al limite una forca doppia vanga manuale se proprio c'è da rifare i letti così via quel ripuntatore che avete visto giusto per decompattare un po ma dal momento in cui aumenta la sostanza organica ci sono sempre radici nel suolo il problema non si verifica l'idea è proprio finisce finisce la coltura trinciamo tutte le attrezzature che abbiamo hanno il passo le ruote che calpestano solo i sentieri per cui non si compatta il letto si trincia si semina magari si si muove un pochettino anche solo con un rastrello una rullatina cresce il sovescio o si trincia o si alletta e di nuovo strato dopo strato l'unico problema qui è il trapianto che è un po laborioso essendoci tutto il materiale da spostare per dover trapiantare ma adesso con le con il cippato sovescio si si trincia si trapianta la coltura senza pacciamatura facciamo delle mascherine che si appoggiano tipo delle grondaie che si appoggiano sulle file di ortaggi noi vedrete facciamo una coltivazione molto intensiva è per cui ci sono tante piante per metro quadrato si mette queste mascherine si butta il cippato si sposta così via l'ideale sarebbe riuscire a meccanizzare tutto quanto c'è il modo non so se conoscete il muro cat che una trapiantatrice che davanti a dei dischi che girano velocissimo e tagliano pacciamature di questo spessore e poi trapiantano le piantine nella pacciamatura viene tutto meccanizzato c'è l'azienda agricola che produce questa macchina che lo fa su 20 ettari di ortaggi per cui si può fare abbiamo mille prodotti che vogliamo fare partendo dal miele faremo l'idromiele c'è la propoli c'è polline polline certa tipologia ci sono veramente una quantità di prodotti infiniti che si possono fare da un'agricoltura perenne ovvero colture perenne da qua incomincia la carrellata di 20 varietà diverse di gelsi sono quattro specie di gelsi abbiamo già fatto una prima analisi con un chlorophyll meter in pratica abbiamo visto quali sono già le varietà che producono più proteina e saranno quelle che riprodurremo per poi imbastire il discorso della riproduzione di bacchi da seta secondario ma neanche troppo produzione di frutti di alta qualità noi raccogliendo in giornata e vendendo in giornata possiamo permetterci di vendere i fichi i cachi e i gelsi maturi fate conto che da questi alberi qua solo questi tre gelsi qua non sono nostri però li utilizziamo comunque se si raccolgono tutti i gelsi che fanno si arriva a 6 7 quintali di gelsi guardate quanto costa il gel sessiccato negli autogrill 56 euro al chilo io metto le reti degli olivi col prato alto che mantiene mantiene tutto quanto bello areato si seccano sulle reti prendete le mettete in un essiccatore giusto giusto per finire avete 56 euro al chilo per cui bisogna cercare di sfruttare anche l'intelligenza della natura a nostro vantaggio noi di base siamo stupidi dobbiamo solo trovare il modo sfruttare l'intelligenza del mondo naturale e riuscire a venderla sì 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 e devi creare i tuoi canali cioè l'amica l'amica noberasco tutte queste cose le sta facendo e sta vendendo a livello industriale perché loro sì e noi no e questo è forse uno degli aspetti più interessanti come promuovere i propri prodotti agricoli con una buona comunicazione eccetera eccetera ma dall'altra parte uno una persona che vuole andare a comprare certi prodotti agricoli dove li va a trovare secondo me questa domanda e offerta non sempre si incrociano perché sono domande offerte che sono cariche non sono delle aspettative ma di desiderio di qualità un pochino metto per far mere è questo provo a mettermi a contatto con più esperienze possibili per mettere insieme le aziende agricole che lavorano bene con la gente che vuole alimentarsi in un certo modo comunque a breve vedrete che affronterò bene il problema vedrete non ne rimarrete delusi il più grande compromesso insieme alla serra più grossa giù che abbiamo fatto purtroppo con gli ortaggi è inevitabile qui giusto per farvi capire in realtà non abbiamo più curate quest'anno abbiamo messo all'ultimo momento i 3 i supporti in realtà l'anno prossimo faremo faremo di nuovo coi fili che crescono molto più alte. La particolarità, ve la faccio vedere adesso, è anche in orticoltura di cercare di sfruttare lo spazio il meglio possibile. Una pianta di peperone, una pianta di batata, patata dolce, una pianta di peperone e una di batata. Vedete queste foglie qua? Questa è la batata, ok? Per cui noi, dallo stesso campo, riusciamo a fare due produzioni. In più, la batata copre il suolo, ok? Lo copre, blocca l'evaporazione e così via. E invece fare due campi, uno di batata e uno di peperoni, basta la metà dello spazio. Parlando di elementi nutritivi, come si comporta l'idroponica? È un discorso estremamente complesso. Ci possono essere prodotti da idroponica che sono molto più nutrienti di quelli che vengono dalla terra. Peccato che ci sia una componente che manca. L'evoluzione di radice, terra. Microrganismi, radice. I microrganismi stimolano la diversità biochimica dei composti che si trovano all'interno della pianta. Un pomodoro che viene fatto in idroponica praticamente non ha licopene. Gli puoi dare da mangiare tutto quello che vuoi, non produce vitamine, non produce tutta una serie di composti che vengono stimolati dall'attività dei microrganismi, non del suolo, microrganismi endofiti. Adesso vedrete che tra pochi anni, tornate qua e mi dite avevi ragione, tra pochi anni incominceranno a vendervi non più le microrrize, i microrganismi della rizosfera, cominceranno a vendervi i microrganismi endofiti. Cosa sono i microrganismi endofiti? Quelli che vivono nei vasi linfatici della pianta, che sono quelli che determinano il prodotto finale e la salute della pianta. Il problema è sempre se bypassiamo 240 milioni di anni di evoluzione vegetale, qualcosa ci scappa. Qualcosina ci scappa. Questa cosa che sto dicendo adesso è altamente antiscientifica perché non vi sto mostrando dei dati. In realtà se si vanno a vedere le ricerche comparative, lo si vede. La pianta che riceve multipli e continui stress ambientali, biotici ed abiotici, multipli e continui vuol dire con una frequenza che non riusciamo neanche a immaginare cosa sta succedendo a livello di punture, mangiucchiamenti, rilascio di nutriente a livello del suolo, temperatura che cambia, sole, pioggia, questo e quest'altro. Questo è quello che determina le risposte ormonali e biochimiche all'interno della pianta. Se tu cresci le piante in un ambiente omologato, in un ambiente assettico, dove sempre le condizioni sono... Certo la pianta cresce bene, non ha stress, ma la diversificazione dei suoi composti sarà semplificata. Un'alimentazione semplificata dal punto di vista qualitativo, qualitativo nei termini di numero di specie chimiche, determina la creazione di individui semplici, dal punto di vista celebrale e dal punto di vista fisico, che avranno bisogno di che cosa. Qua sono state trapiantate un mese e mezzo in ritardo, per cui colture piccole che hanno sofferto. Abbiamo montato l'irrigazione quest'estate per la prima volta, se no prima facevamo quasi tutto a secco. Velocemente per quelli che devono andare. A sinistra abbiamo un povero frutteto che non abbiamo gestito come avremmo dovuto, stiamo recuperando adesso le potature per impostare bene gli alberi. Ha già prodotto parecchio. Frutteto su keyline. Keyline è una tecnica per modificare il comportamento dell'acqua, portarlo dagli avvallamenti verso i displuvi, ovvero da dove l'acqua vorrebbe andare a dove l'acqua se ne va via. Per cui cosa facciamo? Diminuiamo l'erosione degli avvallamenti e aumentiamo il quantitativo di acqua nei punti che normalmente non ce l'hanno. Come si fa? Molto semplici, guardatevi il pugno chiuso, guardate le nocche. Le nocche sono i displuvi. Tra le nocche abbiamo i piccoli avvallamenti. Immaginatevi di fare una lavorazione o creare una barriera che vada dall'avvallamento verso il displuvio in discesa, ovvero che scenda di quota. Cosa succede? Creiamo un'incalanizzazione dell'acqua che va dall'avvallamento verso il displuvio. Infatti quando qua piove, tanto, vedete che l'acqua scorre dall'avvallamento che è la centrale, dove c'è la parte concava, verso l'esterno che è la parte più alta. In questo modo cosa succede? Si omogenizza il quantitativo di acqua, si elimina l'erosione e le piante sono molto contenti. Frutteto, 88 varietà, non abbiamo utilizzato il rame, non le abbiamo gestite neanche come avremmo dovuto solo i peschi, tranne quest'anno che hanno fatto una produzione talmente alta che si sono spezzati i rami. Stiamo parlando tra i 30 e i 60 kg di pesche per piante in certi casi. Questo frutteto sarà un frutteto agroforestale, ovvero adesso già vedete le paulogne e l'uva spina. Ogni fila sarà una sperimentazione diversa. Paulogne cresceranno a 7-8 metri di altezza, potati, rami, alti per non portare via troppa luce alle piante da frutta. In mezzo, tra una paulogne e l'altra, o una conifera o una pianta ad alto fusto per arrivare ad avere un po' come nel bosco. Piante ad alto fusto, secondarie, livello dei fruttiferi, ed erbacee, uva spina. Poi sotto mancherebbe un po' di magari rabarbaro o cose del genere. Per cui ogni fila, vedete, lì abbiamo ribes, più giù abbiamo la giosta, tra i meli già diverso abbiamo meli e in mezzo gledizia treacanthus che protegge il melo. L'idea di avere dei top canopy, per cui delle piante che arrivano in alto, è di creare una protezione, eccesso di luce, eccesso di calore, ma soprattutto protezione dalle grandinate. Non vogliamo mettere una rete anti-grandine, vogliamo diminuire l'effetto delle grandinate. In mezzo tra le file pascoleranno gli animali che gestiremo con i fili o con le reti. Vado veloce così finiamo. Ortaggi, adesso qui è l'unico, questo e quello, non avevamo tempo, sono gli unici campi che abbiamo fatto da quando siamo qua che non sono stati coperti, se no questo, questo qua è la regola, per cui qui oltretutto c'era un po' di cippato. Terreno sempre coperto, qui abbiamo raccolto tutto quanto. Vabbè, la densità di ortaggi deve essere sempre molto alta, qui abbiamo già raccolto tutti i radichi. Deve essere un prato di ortaggi, un prato di ortaggi. Qua ogni 7,70 metri abbiamo quelle fasce di cui vi parlavo. Vetiver, pianta dalle radici profumate con cui si fa il profumo base più importante che ci sia. Alternato con consolida, che è quella pianta, questa è stata tagliata, quella pianta che si taglia 4-5 volte l'anno per fare un fertilizzante fantastico, si scioglie in due settimane in acqua, è una fibra fantastica. Radici carnose molto grosse che accumulano tantissimi nutrienti. Queste radici arrivano a 5-6 metri di profondità, per cui qua c'è un muro di radici ossigenanti che stimolano la produzione di microrganismi, riproduzione ai microrganismi e anche di lombrichi. Qua è perenne, non si lavora mai, non si dà mai fastidio. Ma di lombrichi qua stanno aumentando, terreno sabbioso, ma stanno aumentando in maniera esponenziale. Il nostro bel muro ci porta i nutrienti che gli ortaggi si fanno sfuggire, li riporta a galla e usiamo le piante per la fertilizzazione o per la pacciamatura. Paoloni che adesso purtroppo le abbiamo trapiantate tardi, adesso abbiamo fatto già i trapianti ogni 3 metri, che verranno sempre potate molto alte e per cui avremo una bella copertura perché gli ortaggi hanno bisogno di ombra. Tutte le foglie aumentano di dimensione, perché più ombra c'è più loro aumentano di dimensione. Gli spinaci e così via, in più piante come pomodori e così via non è vero che hanno bisogno di troppo sole, hanno bisogno sempre di un po' di ombra. Come decidiamo il quantitativo di ombra? Potiamo più o meno i rami alla base dell'albero. Vogliamo un po' più di ombra? Li lasciamo. Vogliamo meno ombra? Potiamo. Cioè l'idea, adesso tutte le altre più o meno le abbiamo già un po' raccolte. L'idea vedete, deve essere un prato di ortaggi. Vedete ancora qui il pattern? L'esagono? Con la pianta al centro? Queste e settonce, infatti la copertura è totale. Qui ci ha buttato giù, tre temporali ci hanno buttato giù il vignetto, adesso rifaremo la pergola, abbiamo avuto tanti danni. Tutti questi rami qua, quelli spezzati o quelli piegati, sono stati piegati dalla produzione. In fondo abbiamo avuto dei danni ancora maggiori. Solo di pesca ad esempio ci sono 14 varietà. Qui un po' di sperimentazione con, sempre attenzione ai carciofi, in questo caso fichi di diverse varietà. Eucalipti, sono eucalipti resistenti al freddo per la produzione sia di oli essenziali ma fioriture durante, fioritura eccezionale, importantissima, medicinale per le api durante il periodo in cui le api non hanno niente. Eucalipto, questo è eucaliptus gunni, eucaliptus viminalis, attento qua, che sono piante stupende che faremo andare su belle in alto, per cui produzione di oli essenziali e miele in periodi estremamente importanti. Fate conto che arnie con cui ho lavorato in Australia, i boschi di eucalipto producevano 250 kg per arnia, di miele l'anno, stanziale. Il gunni resiste fino a meno 20 gradi, il viminalis fino a meno 10-15 gradi, crescono rispettivamente sulle montagne Blue Mountain e le montagne della Tasmania. Il caffè di cicoria, ve lo consiglio, lo beveva mia nonna in guerra e non contiene caffeina, veramente buono, io ve lo dico. Comunque, ritornando, avete visto che bella persona che è Matteo, veramente, veramente fighissima la giornata, sono quelle giornate un po' che ti riempiono il cuore, avevo il cellulare, continuavo a scrivermi appunti sul cellulare, cose piantare nel podere, cose da replicare nel podere e spero, insomma, di poter riandare ancora a incontrare Matteo proprio per porgli un sacco di domande, un sacco di interrogativi, poterlo magari ancora filmare e approfondire alcune tematiche. Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti ricordo che qua sotto ci sono i commenti, mi raccomando arricchiamo tutto questo video di grandi commenti, buone discussioni in modo tale che tutta la community possa crescere in questo modo. Ti ricordo sempre di mettere anche un mi piace perché il mi piace serve soprattutto per farmi capire se avete apprezzato o meno il contenuto, quindi per me è molto importante. Vi lascio anche in descrizione i contatti dell'agricola Iside, se volete capire come lavorano tutto il percorso che stanno facendo, se volete comprare i loro prodotti, insomma qua sotto c'è sia il sito sia il profilo Instagram, così c'è tutto. Detto questo ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!